E dopo gli dice di sostenere la Juve, di essere tifosi, di essere contenti, ma contenti di cosa? Contenti di cosa? Questa Juve qua ormai è finita? Non esiste più società ridicola? Cioè siamo proprio, se facciamo schifo da soli, perché è impossibile che non ci siano verifiche da parte degli operatori, non lo so, anche dei preparatori atletici, anche dei preparatori atletici, non c'è una sicurezza, non c'è una verifica, un qualcosa di essere protetti, qualcosa, non c'è niente di questa società qua, non c'è niente di fare quel cacchio che vogliono, fanno quel cacchio che vogliono. Cioè è una roba assurda, una roba assurda, ma non lo so, dopo gli dice di stimare a Juve, di stimare di qua, di stimare di là, o siamo un altro tifosi, o siamo un branco dei deficienti, che noi altri non capivamo niente, ma capisse solo gli ori, è come se gestisse una società, una squadra di Juve. Ragazzi, mi poteria di non sapere niente del calcio, per carità, non sono incompetente di capire un po' più di tanto questa società dentro, cosa che fa, cosa che pensa. Cosa potremmo fare? Come potremmo pensare noi altri che questa società Juve sia seria, sia seria, competitiva, sia... Ah sì, non so neanche come definirla, perché... Non lo so, tanto a Juve non... Non ha più... Non ha più... Non ha più... Non so, non ha più senso, non ha più... Non ha più stimolo, non ha più stimolo di chiamarsi Juve. Una volta, una volta, diciamo, ma adesso... Ma adesso... Adesso il ciappa tutto sotto gamba, il ciappa tutto sotto gamba. Non c'è niente serio, non c'è niente seria che fa il proprio lavoro e si degna di controllare, di fare analisi, di fare verifiche. E anche qui... E anche qui... E corre lo stesso. E sa correre. E sa correre. E... Anderemo avanti così? Anderemo avanti così? Non lo so. Tanto, questa società qua, questa società... Da chi è presa in mano? Da chi è presa in mano? Da EICAM. Chi... Chi è io EICAM? Chi è io? Chi è io? Nessuno. Nessuno. Perché... E sei... Per dire... E sei... Non so, sei un fantasma dentro a Juve. Non so. Earcan sei un fantasma dentro a Juve. Dentro a Juve. Chi è un fantasma? Non ce è Earcan? Non so. Chi è un spirito. Un spirito negativo dentro la società. A partire da Allegri. A partire dalla diligenza. E a partire dai preparatori atletici. A questo punto qua. Perché anche i preparatori atletici... I poteve... I doveva... I poteva. e gli poteva fermare prima Pobba cosa gli spetta? cosa gli spetta? cosa gli spetta? non lo so adesso Pobba ha 4 anni e disqualifica oh non ho altri più di tanto cosa 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 vogliamo pensare? cosa cosa dobbiamo pensare della Juve? non lo so Pobba ha un altro Balotelli Pobba ha un altro Balotelli perché non c'è neanche non c'è neanche sensato a dire Gaeta si è rovinato si è rovinato non dico neanche che mi dispiace però non lo so non lo so perché non capivo neanche noi altri che fine fa questa Juventus perché non è neanche giusto essere presi per i fondelli da noi tifosi e non sapere niente e non sapere niente di cose che fa cose che pensa e che progetti che progetti ha boh va bene disinevo altri sotto nei commenti perché mi è messo rotto i coglioni mi è messo rotto e vai di sentire sempre una telenovela nuova dell'Ariventus basta mi rompe e vai basta per non dire per non dire altro perché tanto niente ragazzi dai più merda più merda di così non si va da nessuna parte però non so non so non so cosa se cosa se se meritemo non so neanche a me non so neanche a me adesso siamo fuori dai coppi siamo fuori di tutto e siamo ancora in merda Musso disinevo altri ciao ragazzi